L'interesse degli sportivi gialloblu sarà puntato questo sabato sullo stadio Olivieri di Via Sogare, dove con inizio alle 14.30 scenderanno in campo Verone e Tavagnacco di Udine nel big match del massimo campionato femminile. Veronesi e Friulane si giocano una fetta importante di scudetto e di qualificazione champion, in classifica dopo i recuperi dei giorni scorsi, le scaligere sono state scavalcate in vetta dal Brescia avanti di una sola lunghezza, mentre le Udinesi inseguono staccate di tre punti Gabbiadini e compagnie. Per la corazzata Friulana conta solamente vincere, mentre anche un pareggio potrebbe risultare positivo per le gialloblu, che arrivano allo scontro diretto con alcune assenze di rilievo, fuori le infortunate Girelli e Toselli mentre si spera nel recupero dell'azzurra Marta Carissimi. Il Tavagnacco è una vera e propria corazzata, potendo contare sull'apporto di ben sette nazionali e a dispetto di una classifica che vede la formazione allenata da mister Rossi leggermente attaldata, viene considerata la squadra più attrezzata per la vittoria finale. Mister Longega appare fiducioso, nonostante i precedenti più recenti siano negativi per i colori gialloblu. I precedenti non sono dei migliori anche perché nelle due partite che abbiamo fatto quest'anno le abbiamo perse tutte e due, anche se le abbiamo giocate abbastanza bene. Infortuni ce ne sono, però confido molto in chi andrà a prendere il posto delle infortunate. Relativamente alla partita è una partita difficile, però sappiamo di poter farla, di poter vincerla. È logico che questa è una squadra da prendere con le pinze perché è forte in ogni reparto, però noi abbiamo tre punti di vantaggio e su questi ci giochiamo e speriamo di riuscire a mantenerli se non anche a prendere più spazio ancora. L'Azzurra Carolina Pini chiama allo stadio i tifosi scaligeri per un match di importanza fondamentale. È sempre numeroso il pubblico qua a Verona e poi dato che non gioca neanche il Chievo, neanche l'Elas, insomma ci aspettiamo veramente un gran numero di persone a vederci. Sono partite comunque a sé, ogni partita è importante, noi abbiamo ritrovato un gioco e vogliamo dimostrarlo sabato e vogliamo dimostrare che le altre due alla fine erano solo dei casi, non è il tavano con la quadra più forte.